Dipendenza dai social network, giovani in rete, è stato il tema del convegno che si è svolto a Palmi presso lo studio di psicologia Arcoiris, diretto dalla psicologa Raffaella Condello, un tema questo di grande attualità che coinvolge quasi la totalità delle persone vista la diffusione della tecnologia, dei smartphone e dei social. Io posso parlare dell'esperienza che ho come insegnante, come pedagogista, come psicologa e quindi noto che i ragazzi passano moltissimo tempo in questi social network e di conseguenza non vivono la loro vita, quindi non vivono le emozioni, non vivono l'emotività e vedo una forma di assenteismo da parte dei genitori che comunque accontentano tantissimo i loro figli comprando questi nuovi ausili che sono fondamentalmente dei distrattori per i ragazzi perché passano tantissimo tempo davanti a questi distrattori, quale può essere lo smartphone, quale può essere il cellulare e quindi un bambino addirittura arriva ad avere due o tre cellulari e alla fine c'è tra virgolette un lavaggio del cervello, quindi ci ritroviamo i bambini che sono fondamentalmente spesso sempre connessi ma non vivono quella che è la loro realtà, hanno bisogno di giocare, hanno bisogno di stare all'aperto, hanno bisogno di sperimentare dati empirici, quindi attraverso l'esperienza, quindi giocare all'aperto sono chiusi, sono privi di rapporti amicali, finiscono per isolarsi. Se io per esempio dovessi chiedere a un bambino giochiamo con la palla e do quest'input di tirare la palla al muro e di farla prendere, bene ci sono dei bambini che non riescono, quindi la coordinazione ocula monale manca. Abbiamo un arricchimento dal punto di vista cognitivo ma abbiamo una forma di debolezza dal punto di vista psicomotorio. Ma come se ne esce, cioè come si può far uscire dalla dipendenza non soltanto i bambini perché ormai è qualcosa che tocca anche gli adulti, soprattutto gli adulti? Allora la cosa più importante, io mi riferisco sempre ai genitori perché parlo soprattutto dei bambini, è quello di cercare di regalare meno strumenti tecnologici ma aiutarli con, che so, comprare e regalare dei libri, comprare degli ausili che possono aiutarli ad accrescere la loro creatività e abbandonando in parte perché non possiamo dire assolutamente che li possono abbandonare completamente. Nei luoghi di lavoro, nelle relazioni umane e interpersonali ma anche nelle dinamiche familiari attraverso il rapporto con il partner e soprattutto con i figli, principali utilizzatori dei moderni social network. Il convegno ideato e organizzato da Raffaella Condello, psicologa e pedagogista, ha rappresentato un'occasione di approfondimento e di analisi critica di questo importante fenomeno. A sviluppare gli argomenti posti erano presenti il sostituto procuratore della Repubblica di Palmi, Rocco Cosentino, l'architetto giornalista Giorgio Metastasio e lo studente universitario Giuseppe Abramo, responsabile della rivista Diritto 21. Certamente un utilizzo corretto, vigilato, dello strumento di social network può favorire una collaborazione, una cooperazione tra tutti gli utenti Facebook, soprattutto per i più giovani e questo permette di superare le barriere di tipo culturale, le distanze geografiche. Tutto ciò però se vi è sempre un corretto e un utilizzo sempre moderato, ponderato, il che non avviene purtroppo sempre. Intanto come giornalista, soprattutto come giornalista della carta stampata, io ho notato soprattutto un vuoto che c'è verso questa, soprattutto una mancanza di attenzione verso la carta stampata, c'è un calo vertiginoso di giornali, di vendita di giornali, ma non è un problema economico, il problema è sicuramente dell'avvento dei social che stanno sostituendo un po' tutta la materia della comunicazione. Quindi le nuove forme di comunicazione, soprattutto nell'ambito dell'informazione e questo è il dato più preoccupante. Social che molte volte diventano anche fake news, diventano soprattutto veicoli di notizie false e di conseguenza bisogna anche capire, valutare la certezza della notizia così come viene diffusa. Tutti diventano ormai diffusori, comunicatori, diventano soprattutto comunicatori social, di conseguenza la notizia diventa incontrollata.